Siamo con il direttore sportivo Enzo Filonomo, si è concluso da poco il sesto Memorial Mario Perone dedicato a un nostro amico soprattutto e calciatore della Rivera Ionica che si è distinto nella sua carriera sportiva ma non solo in quella sportiva, era un bravo ragazzo. Beh, parlare di Mario come ogni anno facciamo è riduttivo perché è un ragazzo della straordinaria qualità umana un ragazzo un amico degli amici, è un ragazzo che ancora oggi non ci rendiamo conto di come mai sia potuto succedere questa sua decisione improvvisa, è un ragazzo che ci resterà sempre nei nostri cuori, nei nostri ricordi io avevo del piacere di allenarlo, quando lui ancora era qui a Santa Teresa e faceva la Juniors e mi ricordo che era un ragazzo straordinario sotto tutti i punti di vista quindi fare ogni anno Inter Memorial per noi, per me Enzo Filonomo, per noi Ionica, per te sicuramente ma per tutti quanti deve essere un appuntamento fisso perché è il minimo che possiamo fare per ricordare un ragazzo straordinario come Mario. Durante la telecrona diciamo con Pippo che oggi Mario poteva giocare in entrambi le squadre dato che aveva la voglia di giocare bene a calcio, palla a terra ed era molto bravo e quindi noi abbiamo detto Pippo che oggi Mario si trovava bene in queste due squadre. Ma sicuramente, Mario è uno che giocava a calcio e quindi quando uno sa giocare a calcio può giocare tranquillamente in qualsiasi squadra, lui ha calcato per cosciaci importanti come la primavera del Messina, poi purtroppo nella vita per poter emergere tutto a livello calcistico ti devi trovare nel posto giusto al momento giusto e invece poi ha fatto un passo indietro è rimasto nelle categorie di direttanti, eccellenza, promozione, poi arrivo fino a giocare in prima categoria gli anni passano e quindi magari non riesci più ad ottenere quello che magari ti meritavi però Di Mario tutti si ricordano di un giocatore dalla qualità tecnica sopraffina. Oggi l'amministrazione comunale, concludiamo, ha preso un impegno di poter intitolare il nuovo stadio perché inizieranno in estate i lavori per l'ammodernamento del terreno di gioco che sarà in erbetta sintetica ma sarà rimodernata tutta la struttura e ti ripeto, come ho detto prima, l'amministrazione comunale si è presa l'impegno di intitolare lo stadio a Mario Perone e questa sarebbe una bella iniziativa se si va in porto. Ma mi fa piacere che l'amministrazione abbia dato già questi input per noi chiaramente avere l'impianto intitolato a Mario che siamo qui lo testimonia il fatto che siamo legati in modo particolare quindi è giusto secondo me fare un atto di questo genere auguriamoci intanto che i lavori possono iniziare perché chiaramente se no più iniziano qua noi siamo un attimo notte sulle spine e che tutto proceda bene, che il percorso possa iniziare e finire in tempi ristretti in modo che dalla prossima stagione possiamo tranquillamente avere un impianto nuovo e il prossimo anno rivederci qui con una struttura diversa per poter fare il settimo memoria da Mario Perone. E speriamo che la Ionica sia in eccellenza nel 2018. Questo è ancora presto per dirlo, la stagione è lunga, stiamo facendo un gran campionato ci stiamo confermando e non è facile confermarsi soprattutto nel calcio come nella vita quindi il nostro obiettivo è quello di fare bene e di essere protagonisti fino alla fine poi il campo di Rasi meritiamo o meno di fare il salto. Ok, in bocca al lupo e tanti auguri. Grazie, colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i colori uguali amici della detta Ionica alla famiglia Prestia in modo particolare che si presta sempre a questi eventi con molta sensibilità quindi un augurio di buon Natale e felice anno nuovo a tutti quanti. Grazie, arrivederci. Ok, grazie. Grazie a te Gianni. Grazie a te Gianni. Grazie a te Gianni.